e qui invece che cosa stanno preparando qui stiamo preparando una nostra specialità che ragù di granseola una ricetta proprio classica tradizionale veneziana partiamo all'inizio quel classico soffritto come il classico soffritto che fa la massaia a casa l'olio a stavesene di oriva del filettino di passera e la polpa di granseola che viene inserita all'interno come base in una cucina come questa dove vengono realizzate tantissime ricette la tecnologia ha una certa importanza come per esempio abbiamo i forni forni molto importanti che hanno delle ricette memorizzate al loro interno quindi per avere delle cotture uniformi necessita appunto di questi macchinari all'avanguardia